Mi guardi per il corpo, voi mi ramassentate direttamente. La nazione Alcomareno comincia qui. La riconciliazione comincia qui. Riconciliazione, dice? Sì, riconciliazione, Gesù. Compagno Presidente, fino a ieri quelli cercavano di ucciderci, forse pure i quattro che sono nel mio ufficio e magari ci sono anche di ucciti. Sì, lo so. Anche il perdono comincia qui. Il perdono libera l'anima. Cancella la paura. Ecco perché è tanto potente come è Arman. Non è una cosa così. Dicevo, mica un figlietto così, un attore così. No, no. Non volevo dire, ma vi siete quasi fortemente in lavoro. e vi ringrazio, è molto vero in ciclino. Però volevo dire a chi non è appiccoglialmente che gli attori più sono bravi, più sono facili da doppiare. E devo dire che Morgan Freeman dà una bella mano, eh? Tu quante volte le doppiate, Morgan Freeman? Sempre? Non ne ho idea. Quasi sempre. Quasi sempre. Ogni volta c'è sempre la stessa emozione. Sei sempre felice oppure da un po' ci passa? Beh no, è un attore straordinario. L'ho detto, gli attori più sono bravi. Più riesci a doppiarli in regno. Lui è bravo, ma tu sei fantastico. Io sono straordinario. Grazie. Grazie. Ci tiene stretta la parola. Io lo amo. Lo sposerò altre persone. E ora, è ora la presenza del pubblico. Ora andiamo a rivedere, leggiamo velocemente i nomi per il premio del pubblico. Veloce, veloce, veloce. Veloce. Abbiamo canera, Massimo Carmo, Franco Mantella, Renato More e Gianni Mosi. Vince. Andiamo in release. Vado a bocchera! Braro! E' un attore. Parte la standing dal topolo femminile, sembra bello. Sì, perché è bello, bello. Un uomo accuto. Tutte le donne non verranno. Fabio, 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 Fabio. Oh sì. Oddio. Faccio anche a me. Sì, ma io solo posso sostenere. Ma prego, hai la targa? Se vuoi, se vuoi. Ecco la. Grazie. Grazie. Un applauso. Un applauso che introduce immediatamente il filmato. Ha riflettuto sulle cose che cominciano con la lettera M. Miserate. Marrone. Marrone. Mmm, marizzi. Lo cerchiamo un po', ma dove si trova Alice? Chi? Quel piccoletto. E cosa ne sono? E sentite, al massimo a testa, ti dovrò mettere in te. Smettila. Avete una testa deplorevolmente grande? Mi piacerebbe farvi un cappello. Un cappello? Sì. Ah, lo facevo per la legge bianche. Non ce l'ho molto da lavorare. Puggerino alla testa, non un po' piccola. Minuscola. Uno spaccio di neve. Ma questa, cosa potrei fare con questo monumento, con questo pianeta. No, questo monumento, c'è ne vedete, lo ecco, glà. Eccolo. Grazie. Grazie, tutti i cavaliere. Grazie. Voglio sposare, ho venuto con Renato Mori. Io mi associo a quello che dice Renato, è vero. Gli autori sono bravi, buona parte il nostro lavoro è già un buon punto. Ti volevo chiedere, Fabio, cioè tu, Johnny Depp, lo hai doppiato, quasi sempre, però praticamente sei tu. E lui ti dà la possibilità di dobbiare tante facce diverse. Lui è sempre stravagante, non è mai un attore che è canonizzato, no? Quella è la mia fortuna. Perché quando un attore è bravo, non ce l'ho apprezzato, ti dà l'opportunità di seguire, non fai fatica, li vai appresso. Io voglio sapere quello che ti è piaciuto di più, però, tra i tanti che hai fatto, da Jack Sparrow a questo. Sono più affezionato a Jack Sparrow. Jack Sparrow, è Jack Sparrow. Però, è un po' che sono un capitano, Jack Sparrow. Sì, l'avete sentito? Però la fabbrica di cioccolato è stata molto impegnativa, devo dire, perché si correva il rischio di uscire fuori dalle lighe e fare la macchietta. Chi fa il nostro lavoro sa cosa è il mio. Facciamo anche un ringraziamento a Rodolfo Bianchi, mi pare di capire. Sì, no, io devo ringraziare, ovviamente, Johnny Depp perché esiste. Esatto. Poi, voglio ringraziare, grazie tantissimo a Rodolfo Bianchi, ma soprattutto ringrazio loro, il pubblico. Ti amalo molto. Ringrazio loro. E spero di continuare sempre su queste linee. Non si saranno. Siamo sempre felici. Grazie a tutti. Grazie, Paolo. Grazie, Paolo. Grazie. Sei il presentatore e tu il microfonato.